Marisa Laurita e Mario Scaletta sono i protagonisti del terzo spettacolo del Plautus Festival che va in scena sabato 8 agosto. Aristofane, un testo del 411 a.C., quindi Atene aveva da poco superato la peste. L'Isistera ci racconta un mondo al femminile di donne che decidono di trovare degli escamotage per impedire questa guerra eterna tra Atene e Sparta. È assolutamente una commedia che ha come centro la sessualità del tempo. Le protagoniste sono le donne e per la prima volta abbiamo al Plautus Festival Marisa Laurita, che credo non abbia bisogno di presentazioni nella sua comicità partenopea e non solo. Certamente le 60 edizioni di festival sono importanti, una ripercussione per la cultura del territorio e non solo. Assolutamente, la cultura per Sarsena è il motore, il nucleo centrale di tutte le attività che si svolgono nel nostro comune. Il Plautus Festival rappresenta sicuramente un grande evento culturale. Attorno a questo ci sono tutta una serie di offerte, sempre dal punto di vista culturali ma non solo, che riguardano Sarsena, penso al museo archeologico, alla chiesa, a tante situazioni e a tante realtà che fanno della cultura veramente il centro del nostro essere, del nostro vivere.